Questa è l'immagine di un punto, di un accesso a un punto I sinistro, una signora che ha già subito quattro interventi. Quattro interventi. Successive flebectomie e scleroterapie a cosce e gambe e la valutazione emodinamica la vedrete a seguire. E il risultato di questa valutazione emodinamica è stato un punto di fuga inguinale con un'alta portata di reflusso in Valsalva ad alimentare le varici diffusa cosce e gamba si associano altri due punti di fuga a portata minore che verranno rivalutati a quattro mesi da questo trattamento. Questo è il marcaggio dell'anello sottocutaneo Questa è la direzione del plesso venoso del legamento rotondo L'anello inguinale profondo Il tubercolo pubico L'accesso cutaneo è di queste dimensioni Quanto hai di elettrico? Asciughe Paolo per favore Dammi il pallino Mi dai le manine? Dobbiamo procedere verso la fascia del muscolo oblico esterno Lasciami una pinza e una forbice Sapendo che nel sottocute C'è un importante cavernoma venoso Che poi potrete vedere nel filmato a seguire Che potrete vedere nel filmato a seguire Più l'arri Dai il pallino Aspetta Paolo Metti il dentro Un attimo Senti dove la fascia Paolo In questo caso È bene procedere con la dissezione Direttamente sulla fascia del muscolo oblico esterno Per non cadere in mezzo al cavernoma Che considerando la dimensione di 9.8 mm Del plesso venoso del legamento rotondo Potrebbe creare dei problemi Potrebbe creare dei problemi Attenzione che c'è un vaselino piccolino Paolo Ok Cerchiamo di ottimizzare poi La posizione dell'ottica We try now to optimize the view we have Of this intervention Ok Si riesce a vedere Non tirare troppo verso l'alto Dammi la forbicetta È un mini accesso Potete vedere è un mini accesso E là Paolo La diagnosi è valutata Ci vuole un po' Palli È piuttosto semplice da eseguire È qua Paolo Devo vedere meglio la fascia Mi dai il bisturino un secondo Mi dai una coagulatina Mi dai una coagulatina Mi dai una coagulatina Mi dai una coagulatina Sì un secondo Adesso la sentiremo Sì un secondo Adesso la sentiremo Non vedo ancora la fascia Mi sentono qua? Sistemiamo l'ottica adesso. Comincia a esserci la visione della fascia. Abbiamo spostato il cavernoma. Verso la regione crurale. Se non si procede dall'alto verso il basso, si incorre nel cavernoma. Se non si procede dall'alto verso il basso, potremmo toccare il cavernoma. Un po' di lido. Un lavaggino con una soluzione anestetica. Un secondo. Ok. Adesso centriamo. Come potete vedere, a questo livello, abbiamo l'anello superficiale del canale inguinale. E si comincia a intravedere il plesso venoso che esce dal canale, che è questo. Come potete vedere i plexi che venivano dall'alto verso il canale, che è questo. C'è un faraboff un po' più grande. Aspetta Paolo. Stiamo centrando l'accesso per avere ancora una visione migliore. Una pinza. Il nervo. Genito crurale. Questo è il nervo crurale. Questo qua. Questo qua. Dammi la bipola. Vieni Rodolfo. Pinze rivestite. Dammi una pinza anatomica. un'altra pinza. Un'altra pinza. Una clemerina. Un'altra pinza. Una clemerina. Una clemerina. per sapere se ci avviciniamo a fibre nervose microscopiche. che se prese con una legatura. potrebbero dare dei fastidi cronici. Potrebbero dare dei fastidi cronici. implicazioni. Ma procedendo con come stiamo facendo, la paziente ci avvisa. fra tutti i punti trattati. questo di oggi è quello di maggiori dimensioni e portate. come dicevo, 9,8 millimetri a paziente in piedi. come ho detto prima, 9,8 millimetri a paziente. la posizione è in la posizione. Ok. Come potete vedere, le dimensioni di questo plesso venoso sono notevoli. come potete vedere, le dimensioni di questi venoso plexi sono davvero meravigliosi. dammi il pallino. Preferisco procedere scollando piuttosto che tagliando. io preferisco procedere con la deteccia molto semplice, invece di tagliando. Passo l'aceno. cominciamo a trovare un passaggio. Cominciamo a trovare un passaggio. Spostiamo il nervo. Fettuccia. Scusiamo. Fettuccia. Questo è il punto di fuga primario di alimentazione della recidiva. Ecco, sta ulteriormente. Isolando il plesso. Risparmiando le strutture che non hanno a che vedere con le vene. Sì, sì, stai qua. Lì, tieni via questa robina qua. Ok, prendila bene Paolo. Prendila bene, no? No, no, viene diverso di me quello. Tieni qua. Ok, prova a darmi il centimetro. Un attimo. Tieni così Paolo. Mettici un clemerino, Rodolfo. Siamo a 10 millimetri. Signora sente dolore. Un laccio. Metti un laccio del dolore. Il doccio ha chiesto se si sente dolore. Tieni, ok. Clemerino, prendilo Paolo. Rodolfo, prendi insieme. Tieni tirato così. Tieni tirato così te, Rodolfo. Ricapitolando, questo è il nervo genito crurale. Questo è il nervo genito crurale. Tieno lì Paolo. Tieni qui. Tieni tirato, Paolo. Stringendo il nodo. Se qualche fibra nervosa, piccolissima, residua all'interno, la paziente avverte fastidio e ce lo dice. E in questo caso andremo alla ricerca della fibra nervosa. Cosa che non succede ora. Questo è un filo non riassorbibile. È solo il primo laccio. di quattro lacci. Tieni Paolo. Ti dai un clemerino? Quando? Tieni qua. Passa l'acce. Ok. Grazie. Tieni qua, Paolo. Paolo mi tieni questo. abbiamo avuto la conferma che non abbiamo preso alcuna fibra nervosa ok, scusate un clammer togli pure questo questo qui ok vedete com'è pulito il plesso un altro clammer bisogna sempre avere presente in mente che questo plesso è alimentato dalle vene ovariche uterine questa è la ragione per cui bisturi 4-0 è bene essere sicuri dell'hemostasi applicando per ogni lato un punto in polipropilene asciugare potete vedere dammi una clammerina le lacune vascolari del plesso appunto bagnami la mano Rodolfo bagnami la mano ok signora abbiamo quasi finito ecco quindi ulteriore punto trasfisso di sicurezza this is a further transface stage it's a safety stage possono essere un po' più discreti di là secondo voi Silvia puoi raccomandare un po' di descrizione se è possibile me lo puoi lasciare andare come uno c'è vai me ne dai uno nuovo di questi 4-0 me lo prendi fermo con una pinza Paola perché metto l'ultimo punto sotto il moncone si metterà ultimo passaggio giusto per dormire tranquilli questo è il moncone distale che verrà abbandonato non c'è una sufficienza perché lo introfletto proceda allo stesso modo sul moncone prossimale the doctor is proceeding in the same way at the proximal stomp per te paolo non c'è un po' di più cerco di tenere la minor quantità di endotelio esposta praticamente finito signora ultimo passaggio esattamente aspetta Paolo che è tutto introflesso il piano ventiziale quindi oltre che per sicurezza per la neo angiogenesi signora mi dà un colpo di tosse per favore ok adesso Paolo lo voglio mettere in canale Rodolfo mi terresti con un cleme si vede si 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 vede ok cerchiamo di introflettere nel canale inguinale l'orifizio è preso con aspetta che non vedo Paolo il nè ok dammi una pinza tieni qua Rodolfo questo mi dai una pinza Rodolfo tieni su Paolo mi tagli questo occhialino e dov'è il nervo Paolo il nervo fammi vedere fammi vedere taglia l'ago tieni qua fammi vedere dove è il nervo tieni giù Rodolfo tieni su con una pinza la fascia controllo ulteriore controllo ok devi tieni su la fascia Paolo l'ho preso dammi un attimo dammi un attimo dammi un altro punto spostami dammi una clemerina aspetta Paolo aspetta no no aspetta stiamo ok un punto abbiamo spostato il nervo come come quello che si abbiamo spostato il nervo genito crurale ridiamo questo punto introflettente we put again another introflexive stage non abbandonarmi adesso ok dammi la pinza adesso ci ripasso Paolo dammi la forbice taglia col nodo Paolo forbice ok clamorino una pinza no scusa questo qui me lo tolpe un attimo Paolo ok si vede affondamento e fissaggio ulteriore adesso mi rimetto questo faraboff chiudiamo un po' l'anello la garza no mi devi caricare meglio Paolo devi caricare ok si riesce a vedere bene la garza dammi una pinza ah ce l'hai la pinza ok i bordi dell'anello sottocutaneo il moncone abbandonato distale il moncone principale di alimentazione non c'è niente una piccola chiusura dell'anello questa è una piccola di una piccola del ring forbice lavaggio con acqua prima con acqua signora mi dà un colpo di tosse ancora lavaggio con soluzione di acqua anestetico il nervo lo potete vedere qui conservato lavaggio con soluzione antibiotica rifampicina controlliamo l'hemostasi ok metti le manine ok l'ultima visione della fascia dell'anello chiuso ok e della deconnessione avvenuta che ha avvenuto l'anello l'anello ha avvenuto